Scusate soprattutto per l'emozione. Allora, quello che ho trovato io dal vocabolario di internet della parola termine artista dice Con artista si indica generalmente una persona la cui attività si esprime nel campo dell'arte. Nel senso più ampio l'artista è una persona che esprime la sua personalità attraverso un mezzo, che può essere un'arte figurativa o performativa. La parola è usata anche come sinonimo di creativo. In un senso più stretto si definisce artista un creatore di opere dotate di valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta, così come il disegno, la pittura, l'architettura, la scultura, la danza, la recitazione, la scrittura, la regia, la fotografia, la musica, eccetera. Da secoli il termine è fonte di discussione. In quali campi possono essere considerati arte e chi possa freggiarsi il titolo di artista e chi no? Nell'antica Grecia esisteva la parola tecne, che spesso viene tradotta come arte. La tecne presupponeva la maestria in un processo di produzione qualsiasi. Da ciò derivò il latino technicus, che oggi ha la radice della parola tecnica, tecnologia, eccetera. La parola arte invece deriva dal latino ars, che letteralmente significa metodo pratico o tecnica, unita ad una connotazione legata alla bellezza degli oggetti prodotti. Nel Medioevo esisteva già la parola artista, anche se il suo significato si avvicinava più a quello che oggi definiamo artefice, mentre era sconosciuta la parola di artigiano, poi non c'entra niente. L'artista era colui che nel suo mestiere sapeva fare qualcosa meglio degli altri, quindi era l'eccellenza. Per me l'artista è appunto quella persona che attraverso l'utilizzo delle cose terrene, come la penna, il pennello, lo scalpello o qualsiasi altro materiale che si tocca, tangibile, esprime le sensazioni intoccabili e astratte. Per me l'artista è colui che rende tangibile il pensiero. E neanche a farla apposta, lei ha parlato di esoterismo e straterismo, per me l'artista per eccellenza è Marcel Duchamp e lui è l'artista chemico di esoterismo e di esoterismo per eccellenza. Lui è un artista d'ada, è un artista secondo me a 360 gradi, scusate l'emozione... Respiraci dentro. Cosa? Respiraci dentro. Non ho capito. Respiraci dentro. Ah! Lui secondo me appunto è un artista a 360 gradi perché oltre a usare la parola, il cinema, la pittura, la poesia, usa qualsiasi tecniche materiali per esprimere quello che secondo lui è l'arte, e che però per l'arte dada, l'arte non è arte, perché il dadaismo è l'arte della negazione. Io non ho portato una poesia, effettivamente, ma ho portato il metodo dadaista per creare una poesia. Per fare un poema dadaista, questo lo scrive Tristan Sarà nel suo... Scusate, la pronuncia non sono purtroppo svizzera, quindi... Secondo il manifesto sull'amore debole e l'amore amaro del 1920 appunto di Tristan Sarà, questo è il metodo di fare una poesia. Per fare un poema dadaista, prendete un giornale, prendete un paio di forbici, scegliete nel giornale un articolo che abbia la lunghezza che voi desiderate dare alla vostra poesia. Ritagliate l'articolo, tagliate ancora con cura ogni parola che forma tale articolo, e mettete tutte le parole in un sacchetto. Agitate dolcemente, tirate fuori le parole una dopo l'altra, disponetele nell'ordine con cui le avete estratte. Copiateli conscienziosamente, la poesia vi rassomiglierà. Ed eccovi diventato uno scrittore infinitamente originale e fornito di una sensibilità incantevole, benché si intende incompresa dalla gente volgare. Questa è la mia poesia. La mia poesia creata appunto secondo il metodo dadaista. Il presepe, che piaceva tanto ai re di Napoli, da commissionare le statuine di terracotta. Gli artisti più illustri della città e gli abitanti di sete e cotone, alle sarte più talentuose della manifattura e da regina di Caserta. Grazie.